Il futuro del sud e della Calabria dopo la pandemia, la grande opportunità dei fondi che arriveranno dal piano nazionale di ripresa e resilienza a Scilla, tre giorni di confronto, aperti da uno dei temi più sentiti nella nostra regione, ovvero le infrastrutture. Lorenzo Bertolucci. A Scilla, Calabria e Sicilia quasi si toccano. Il ponte sullo stretto dovrebbe sorgere proprio qui vicino, ma se il suo futuro è ancora incerto, non lo è quello del piano nazionale di ripresa. 250 miliardi, molti dei quali destinati alle infrastrutture del sud. Argomento di apertura della tre giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia al Castello Ruffo di Scilla, a confronto giornalisti, amministratori e imprenditori. Priorità non commettere gli errori nella distribuzione delle risorse, come accade spesso per il sud, anche di recente con i finanziamenti per asili nido e scuole dell'infanzia. Secondo me il segreto è non fare quello che si è fatto prima, ma mi sembra che si stiano ripetendo degli errori. I criteri applicativi sono legati al numero dei residenti, al cofinanziamento dei comuni. Voi immaginate che solo in Calabria ci sono 26% circa di comuni in dissesto e predissesto. Questi comuni non potranno nemmeno fare la domanda. Usiamo i soldi per le opere pubbliche che mettano in sicurezza il territorio, ha invocato la vice capo di partimento della protezione civile Immacolata Postiglione, in collegamento da Roma. E poi c'è il tema delle mafie. La vigilanza e il sostegno alle imprese dovranno essere meticolose, soprattutto dopo che la pandemia ha messo in crisi tante aziende.